Il taglio è fantastico finché Per fortuna c'è ribellato Medical Group Dunque, insomma, è bello vincere contro la Gapolista immagino, no? Sì, oggi è stata veramente una grandissima partita e una grande emozione davanti a tutto questo pubblico È una partita che, insomma, si era messa subito bene dall'inizio pian pianino, forse anche mentalmente stavate capendo che questa partita poteva essere vostra Sì, ma noi veniamo da tutto questo periodo dove ci sentiamo bene, le cose stanno girando bene e anche oggi si è visto è tutto questo periodo che ci portiamo avanti e dove riusciamo a stare sempre in partita e essere sempre pericolosi È stata una bella lotta lì davanti con le difese sempre uno scontro fisico gli arbitri hanno lasciato molto andare in questa partita Eh sì, ma giustamente siamo in Serie A i scontri ci stanno un po' noi, un po' le difese ma poi gli arbitri è giusto che fiscano quello che vedono Tra le altre cose, insomma, era la tua prima esperienza quindi adesso ormai la Serie A è casa tua ormai hai capito, insomma, qual è il livello come si gioca, insomma Sì, dai, piano piano, partita dopo partita mi sento sempre meglio cerco di dare sempre il mio contributo sia in fase offensiva sia in fase difensiva faccio quello che il mister mi richiede e spero sempre di poter dare sempre di più ogni partita Cosa vi eravate detti dopo l'inizio di stagione negativo e cosa vi direte dopo queste cinque vittorie consecutive? No, proprio adesso il mister diceva equilibrio No, siamo un bel gruppo lavoriamo bene in settimana si sta sempre bene sia nel periodo negativo che adesso penso che continueremo a lavorare sempre allo stesso modo La camera non si ferma più? Stiamo facendo bene stiamo lavorando tanto e quello che lavoriamo in settimana alla fine ci dà i risultati che stiamo portando Coach Rocha dice che insomma, è stata una partita che è stata vinta per la notevole applicazione in fase difensiva Sì, tutte le partite più o meno le vinciamo così e questo campionato è così basta, basta bisogna difendere tanto e poi in attacco bisogna essere concreti però la difesa è da dove parte tutto È stato messo alle spalle quel momento difficile di inizio stagione nel quale evidentemente dovevate ancora con i ragazzi nuovi trovare il giusto gioco insomma, no? Sì, abbiamo sistemato quello che stava andando male le difficoltà che avevamo adesso piano piano ci stiamo sistemando con il gruppo e questo si vede perché ovviamente i risultati sono cambiati stiamo andando sempre più su La nota positiva sta sul fatto anche che riuscite a gestire bene anche il portiere di movimento avversario cose che magari in alcune situazioni in passato non capitava Oh sì, è sempre una questione di difesa lo lavoriamo e ogni partita la studiamo e capiamo come difendere al meglio la squadra che abbiamo di fronte quindi anche quello rientra nel lavoro della settimana Adesso pian pianino, insomma, dopo cinque vittorie consecutive siete passati dalla zona play-out alla zona play-off una classifica che comunque aveva tante squadre attaccate tra di loro quindi adesso potete godere, insomma, di questa situazione? Sì, sicuramente siamo più tranquilli di prima questo campionato è equilibrato quindi una partita ti può buttare giù una partita ti porta su quindi ogni partita sarà importante ogni partita va vinta va giocata al meglio per arrivare e rimanere lì dove siamo Adesso si tratta di chiudere al meglio quindi il girone di andata per trovare la migliore posizione in questa ultima parte di questa prima parte di stagione Sì, mancano poche partite queste partite dobbiamo giocarle al meglio e se portiamo a casa i risultati come stiamo facendo sicuramente faremo un girone di ritorno più tranquillo Certo che voi tradizionalmente contro le squadre fortissime riuscite sempre a dargli problemi Sì, sono partite belle da giocare come tutte, però soprattutto queste e partite contro squadre così ti mettono ancora più voglia di vincere quindi siamo in campo sempre al massimo Massoterapia Il potere delle mani Un benessere profondo Prenotala da Rebellato Medical Group Prenotala da Rebellato Prenotala da Rebellato